In quel che riguarda la sicurezza sta per aprire la caserma dei carabinieri, abbiamo voluto a spese nostre del comune risistemare, restaurare un pezzo del mercato, un pezzo dell'ex manifattore dei tabacchi che diventa caserma dei carabinieri. Poi tra qualche anno, tra due anni, finiranno i lavori del CNR, però subito mettiamo i carabinieri lì dentro in modo da smorzare definitivamente gli appetiti dei clan criminali che esigiene. Ce n'è uno in particolare, che è quello che mi ha creato un po' di problemi, che oltre a borseggiare si occupa di ricettazione, fanno i cavali di ritorno, utilizzavano prima alcuni locali del mercato per chiudere i motorini che rubavano e si facevano pagare una tangente per restituire i motorini, per fortuna. Questa cosa è stata eliminata. Ci sono le forze dell'ordine in borghese che intervengono, però evidentemente non stanno 24 ore su 24 su tutto il mercato che è grande. Con i carabinieri penso che il problema lo risolveremo. I carabinieri quando prenderanno possesso della caserma. Dovrebbero per i primi mesi dell'anno prossimo, i lavori sono quasi finiti. E poi il mercato sarà riqualificato. Come sapete, prima dell'apertura del CNR sposteremo le operatori mercatali in alcuni locali, attivi sempre all'interno della manifattura dei tabacchi, e le attuali locali saranno riqualificate.